Ci troviamo nella zona di via Quintinosella, nella zona alta di Frosinone. Questa è la palazzina dove noi stiamo vendendo l'appartamento. Come potete vedere è stato cambiato anche il portone d'ingresso, quindi è stato messo un portone moderno. È una facciata anche ben tenuta e ci troviamo nella zona centrale della zona alta praticamente. Qui a due passi abbiamo il liceo magistrale e scendendo da queste stradine riusciamo comunque ad arrivare nei servizi principali come il Conad, il supermercato, la farmacia e quant'altro. Ci troviamo nell'ingresso dell'appartamento e proprio di fronte a noi troviamo la prima stanza. Procediamo verso il corridoio. Sulla destra abbiamo un'altra stanza ancora, sempre molto grandi come stanze. Sempre lungo il corridoio, sempre sulla destra abbiamo ancora un'altra stanza. L'immobile è molto ampio, parliamo di circa 150 metri quadri. Uscendo da quest'altra stanza ci troviamo nella cucina. Con uscita praticamente sul balcone che ha l'affaccio di Porto proprio verso via Quintinosella e il liceo magistrale Maccari. E' una zona molto comoda perché scendendo questa strada arrivi direttamente ai servizi principali come la farmacia, il supermercato, la banca. Uscendo dalla cucina sempre lungo il corridoio abbiamo un disimpegno. Può essere adibito anche a salottino, a stanza, sempre con uscita rivolta verso il balcone. E dietro questo disimpegno abbiamo una camera grandissima. Come potete vedere è molto 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 spaziosa. E all'interno di questa camera c'è un bagno. Come potete vedere è un bagno che è stato rifatto circa dieci anni fa, che ha una doccia e una piccola vasca. Questo è il bagno che si trova praticamente all'ingresso vicino alla cucina. Il bagno diciamo di servizio. Fui non si turva fare tutto grandes. Questo è poco... ... ... ... ...